Ma devo un attimo ripetermi perché sulla carta il calcio spesso non funziona, il calcio si fa in campo e poi bisogna vedere come ogni tassello che viene inserito nella squadra si adatta, si amalgama e riesce poi a rendere per le proprie qualità. Quindi un calciatore non puoi mai valutarlo per se stesso, va sempre valutato all'interno di un gruppo, di un modulo di gioco, di una realtà, anche la città. Noi siamo convinti che questi due ragazzi che sono qui saranno due tasselli importanti per questi ultimi cinque mesi ma anche per il futuro perché entrambi faranno parte di questa società anche in futuro. Quindi il nostro è un percorso che è iniziato qualche anno fa e che sta continuando di mercato in mercato, sempre proiettato anche a quello che succederà nei prossimi anni. Quindi ripeto, siamo contenti di quello che è stato fatto fino adesso, poi il campo ci dirà se siamo stati bravi.